E' stata inaugurata questa mattina in via Alessandro Poerio 21 la stanza dell'ascolto, il nuovo e rifunzionalizzato spazio dedicato all'accoglienza delle vittime di violenze ed abusi dell'Unità Operativa Tutela Minori e Emergenze Sociali. Presenti con il sindaco Luigi De Magistris, gli assessori alla sicurezza urbana e al welfare Alessandra Clemente e Roberta Gaeta, la delegata alle pari opportunità Simona Marino e di componenti dell'Unità Operativa della Polizia Locale che hanno realizzato la progettazione della stanza. E' un traguardo importantissimo, desiderato e voluto dalla Polizia Municipale, dall'amministrazione tutta e da questa unità che è un'unità particolare, l'Unità Emergenze Sociali e per i minori con cui i servizi sociali lavorano fianco a fianco quotidianamente a tutela dei minori e di tutte le persone con fragilità. Abbiamo portato avanti tantissime azioni di tutela dei bambini, dei ragazzi e questo spazio è uno spazio che consente un ascolto vero, cioè un ascolto che tenga conto anche di un ambiente esterno che sia rassicurante e che quindi possa mettere nelle condizioni i bambini in particolare, ma anche gli adulti, ma i bambini prima di tutto di sentirsi come in un luogo bello e quindi anche in un luogo che tiene conto della sua importanza. I lavori e l'acquisto delle tecnologie di ultima generazione per il rilevamento dei colloqui sono stati eseguiti dal Comune, mentre gli arredi sono stati donati dall'Associazione Donne per il Sociale. Sul marciapiede antistante, la sede dell'Unità Tutela Minori, è stata installata una panchina rossa simbolo della lotta e della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Dare un luogo protetto a persone fragili in difficoltà che si trovano davanti alle istituzioni e devono denunciare di essere vittime spesso di violenze molto gravi. Voi donne, è il simbolo della panchina rossa fuori lo testimonia, voi bambini. Già stamattina abbiamo avuto un primo caso e una prima testimonianza. è importante perché si mette insieme accoglienza, calore, professionalità, umanità e comunque una risposta alle esigenze di giustizia. Quindi qui si rappresenta lo Stato perché si possono raccogliere testimonianze decisive per i processi.